Un po' ripeto che abbiamo detto e direi che possiamo concludere. Io ringrazio Filiberto e Beppe perché credo veramente che abbiamo fatto un ulteriore passo verso le partecipazioni, nel senso che il primo elemento per partecipare in modo attivo è quello di essere informati. Quindi abbiamo raccolto alcune informazioni, alcuni suggerimenti su cose che potrebbero aiutarci a cambiare almeno in parte il nostro stile di vita. Ricordo la serie di appuntamenti abbastanza frequenti a cui vi invitiamo nelle prossime settimane. Uno in particolare che è abbastanza vicino lo trovate scritto nel foglietto che c'è sopra le sedie, ossia il 17 aprile il secondo incontro fin qui previsto sul percorso beni comuni, sempre sul cibo, martedì 17 aprile, ore 20.30 e vi informeremo sul dove perché probabilmente, vista anche le risposte di stasera, questo spazio non è sufficiente, quindi probabilmente lo faremo alle scuole medie. Come Medeo Sandri per Giorgio Casara, il titolo della serata sarà le cucine degli scarti e degli avanti, proprio perché il cibo sta rivestendo un ruolo importante sul concetto di beni comuni, la settimana precedente, il 17, quindi sempre di martedì 10 aprile, nell'ambito di un'iniziativa promossa a livello provinciale da Lega Ambiente, ci saranno sempre le scuole medie, le proiezioni del film genuino e clandestino che è proprio sui piccoli produttori e sui concetti di cui abbiamo parlato questa sera. Andando a ritroso, l'altra cosa che vi ricordo è questa, noi abbiamo iniziato questo percorso prevedendo degli incontri fissi e proposti in modo non partecipato, nel senso che li abbiamo pensati noi come amministrazione e proposti a tutti voi, a tutti quelli che vogliono partecipare. Accanto a questo però vorremmo creare un momento in cui ci sia veramente democrazia partecipativa, quindi proporremmo probabilmente giovedì 29 marzo una serata in cui ci troveremo senza un tavolo dei relatori, ma cercheremo attraverso attività magari di gruppi ristretti di mettere insieme delle idee per tentare di concretizzare ancora di più questo percorso sui beni comuni. Per essere informati nel dettaglio, sarà probabilmente giovedì 29, però dobbiamo confermarlo definitivamente. Invito quelli che non hanno ancora fatto a compilare questo foglietto nella parte sotto, mettere i propri dati, se possibile un indirizzo di posto elettronico, così vi teniamo aggiornati rispetto a questi appuntamenti. L'obiettivo, ripeto, è quello di costruire insieme anche scelte molto concrete che ci portino a vivere questo discorso di beni comuni, anche sporcandoci le mani, direi. Credo di aver detto tutto, Marco confermami se sono lasciato indietro qualche pezzo, vi ringrazio e ci vediamo frequentemente, credo, nelle prossime settimane. Grazie.